Grazie, eccellente. Grazie a tutti i partecipanti, al professor Soave, al dottor Agosti e al professor Baldo per aver accolto questo invito a elaborare qualche ragionamento sulle varie situazioni in cui si è evidenziato un problema di tenuta territoriale dell'Italia alla fine della seconda guerra mondiale nel tentativo di individuare alcuni aspetti su cui, se ci sarà l'occasione, impostare uno studio comparato. Gli aspetti su cui ci si concentra in questo panel sono la questione dell'indipendentismo siciliano che ha avuto una certa, una sua esistenza, una sua consistenza alla fine della seconda guerra mondiale per esaurirsi presto, la questione del confine italo-francese, la questione del Alto Adige su Tirolo e la questione della Venezia Giulia di cui mi occuperò io. Chiedo nuovamente scusa ora che c'è il pubblico rispetto al fatto che il professor Baits non può essere qui con noi, anche lui si scusa, ma purtroppo ha avuto un'emergenza per una missione di ricerca all'estero la cui opportunità si è palesata nell'ultima settimana. Passerei la parola al professor Soave con il suo paper sul confine italo-francese. Grazie Presidente. Allora possiamo cominciare dal 10 giugno 1940 e un tardo pomeriggio Ciano incontra l'ambasciatore di Francia André-François Ponset per consegnargli la dichiarazione di guerra e c'è lì la famosa frase «Avete atteso che noi fossimo a terra per darsi un colpo di pugnale nella schiena, al vostro posto non ne sarai fiero». E Ciano, che passa da una certa baldanza a un po' di imbarazzo, spiega perché hanno dovuto farlo, che ci saranno domani dei rapporti migliori. E lui, il francese, lo interrompe secco, a condizione che voi non siete ucciso, gli dice, perché i tedeschi sono padroni duri, come infatti sarebbe avvenuto. Ma intanto quali rivendicazioni avrebbe posto l'Italia sul tavolo armistiziale convocato di lì a poco, una volta decisa la partecipazione alla guerra? Le linee strategiche erano chiare, erano state la base di una elaborazione negli anni 30, ma si riassumevano sostanzialmente nel dittico la libertà sui mari, e cioè predominio nel Mediterraneo e finestra sull'Oceano Atlantico. Come dire, modesto programma che però postulava conquiste o nuovi trattati con Gibiterra, in Algeria, in Tunisia, con Malta, Djibouti, Suez, anche al fine di un collegamento diretto tra l'Etiopia e la Libia, e nonché sullo sfondo il ritorno, sempre rientrante, di Nizza e della Corsica all'Italia. Ma nessuna di queste questioni avrebbe fatto un solo passo avanti nelle trattative diplomatiche. Ora però, appunto, c'era la guerra. Hitler era entrato a Parigi e Mussolini doveva ottenere quel famoso migliaio di morti necessari per non restare fuori dal gioco. E così fece, e tuttavia ottene un magro, magrissimo bottino, in relazione al fatto che in soli quattro giorni di combattimento aveva riuscito ad accumulare 640 morti italiani contro i 20 francesi, 2.631 feriti italiani contro i 84 francesi, e ben 2.000 congelati, non stupitivi, si era in estate, in alta quota faceva un po' freddo, e quello fece capire che eravamo inadatti, come avevano già avvertito gli stati maggiori, appunto alla guerra. Non poteva dunque alzare la voce Mussolini, lo avrebbe fatto con il governo di Vichy senza trovare ascolto, e anche un po' con i tedeschi, i quali però furono subito alle prove dell'incapacità dell'esercito italiano ed erano piuttosto ritrati di dover correre di qua e di là a mettere le toppe alle loro sconfitte. Arriva poi la caduta del Duce, è l'armistizio dell'8 settembre, e qui si riprende un filo di trattative che però vedono capovolti i rapporti di forza. Dal momento che a fianco delle truppe anglo-americane impegnate a cacciare i tedeschi dall'Italia combattevano anche le parti francesi, seguendo i comandi di quel generale de Gaulle che fin dai primi contatti tra il suo comitato di liberazione nazionale e il nostro aveva rassicurato e auspicato nuovi rapporti fraterni tra le sorelle latine, così le chiamava, avvertendo subito che non si pensasse però di mettere un velo pietoso sulla pugnalata alla schiena del 40, atto di cui il re Badoglio, tuttora il governo, erano stati artefici indiretti. Cambia qualcosa con la liberazione di Roma, De Gaulle è euforico per lo sbarco di Normandia negli stessi giorni in un incontro ufficiale con Renato Prunas, primo segretario del Ministero degli Esteri, assicura che non ci saranno danni o aspirazioni territoriali di alcun genere i danni dell'Italia, essendo l'integrità territoriale italiana tra i fini della sua politica, per smentirsi quasi immediatamente, richiedendo naturalmente il contentino minimo di briga e di tenda, ma mettendo nel mirino un bersaglio tutt'altro che marginale invece nella Valle d'Aosta e approfittando di un problema molto delicato che c'è in quel momento in Valle. Il 18 maggio, infatti, poco un mese prima, insomma, po' di più di un mese prima, il movimento della resistenza valligiana ha subito un colpo duro, è stato catturato ed è stato poi trovato il giorno dopo ucciso impiccato nella scena in cui era rinchiuso, Emil Chanou, che era il capo riconosciuto della resistenza, il notaio in Aosta, da decenni, autonomista convinto. E il trauma della successione era grave, aggravato per di più da alcune mosse non così accorte del Comitato di Liberazione Nazionale Piemontese che mandò qualcuno, cioè non qualcuno, non un qualcuno qualunque, Duccio Gallimberti, a occuparsi della questione il che irritò fortemente i partigiani, soprattutto della Alta Valle, il cui senso, diciamo, dell'autonomia, la fiorezza, non doveva essere, come dire, non poteva essere messa a servizio totale di un giovane che veniva da un'altra parte. E quindi questo è un problema. Cominciano a esserci nell'estate del 44 in Valle d'Aosta delle forti voci che parlano di annessione alla Francia. E ad assecondare queste voci, anzi ad alimentare queste voci, sono alcune, alcuni gruppi, alcune commissioni, francesi, che vengono in Valle con la scusa di aiutare la resistenza, ma che parlano apertamente e affiglano addirittura manifesti per dire quanto sarebbe vantaggioso per la Valle entrare nell'ambito della nazione francese. Questo, per fortuna, della Valle d'Aosta, che è una fortuna, preoccupa molto uno che diventerà il personaggio, il personaggio chiave della resistenza. Uno storico, ecco, a nostra gloria, quel Federico Chabot, che insegnava all'Università di Milano, era ormai già riconosciuto internazionalmente e scende in Valle come partigiano Lazzaro. Dopo la morte di Shanou, di cui conosceva chiaramente il programma, si inquieta e capisce, attraverso i suoi rapporti con il generale Chatrian, che è sottosegretario alla guerra a Roma, che a Roma non sanno niente della Valle d'Aosta. In quel momento stanno occupandosi del tema centrale e la richiesta francese di allontanarsi, di allontanare gli italiani dalla Tunisia, a cui viene risposto di liberare intanto l'isola d'Elba, che era stata occupata da un colonnello francese, e di preoccuparsi delle truppe, delle marocchinate, delle loro truppe comunali, lasciando la questione di briga e tenda per ora accantonata. Per fortuna due, tre memoriali di allarme di Chabot svegliano il governo e creano una sensibile variazione di rotta, anche perché mentre prima ai primi incontri con il governo Badoglio i rapporti tendevano ad essere bilaterali tra Francia e Italia, ora con Saragat, ministro degli esteri, secondo il governo Bonomi, e De Gasperi, Saragat, ambasciatore a Parigi, De Gasperi, ministro degli esteri, si capisce che la chiave vera per la risoluzione di provvedere la Valle d'Aosta è di parlare con la commissione interaldeata. E sarà questa la carta determinante, basti pensare che a ridosso del 25 aprile in Valle d'Aosta, in Valle Susa e in Liguria succederà di tutto. Contrariamente a ciò che prevedono gli accordi militari alleati, le truppe francesi scendono in massa in Valle Susa, in Valle d'Aosta e occupano la Valle Roia, risalgono da 20 miglia fino a Bordighera, mettendo lì il nuovo confine e obbligando le terre recuperate a usare il franco francese e impedendo l'uscita di giornali e di fogli italiani. Insomma, c'è un serio pericolo che corre sul fronte occidentale in quel momento. il generale De Gaulle che parla naturalmente con gli alleati e dice di attenersi ai loro ordini contestualmente da e manda ordini scritti al generale Duoyen di approntare immediatamente amministrazioni provvisorie nelle zone occupate sia dalla Valle d'Aosto sia dalla Valle Susa che da Mentone fino a Bordighera. Ora, la situazione è talmente grave che ad Aosto il 30 aprile vengono nuovamente richiamati tutti i partigiani schierati a difesa dalla Valle con l'ordine di sparare sui francesi che vivono le demarcazioni stabilite dal comando alleato e in quel momento giusto per valutare quanto era calda la situazione in quel grave momento si avvalgono persino delle truppe repubblichine della Monterosa che erano accasermate in prigione insomma in valle dopo la sconfitta e la stessa cosa avviene nella Valle di Susa dove scendono appunto fino a Susa e apparecchiano tutti i manifesti per l'annessione e più a Sud vi ho detto com'era la situazione a questo punto partono le richieste del CLN Paldostano insieme al CLN Nazionale Alt'Italia nei confronti della Commissione Interalealeata e per fortuna Truman dà immediatamente ascolto e intima minaccia De Gaulle di interrompere tutte le forniture militari e le truppe francesi nel caso che non si ritirino entro i confini del 39 a questo punto per fortuna De Gaulle messo con le spalle al muro deve cedere e a Caserta viene sottoscritto un documento di quella natura succederanno ancora vari incidenti in varie Susa dove addirittura per lo scoppio fortuito di una bomba verranno arrestati tutti gli abitanti di Susa mentre erano una domenica nella cattedrale di San Giusto alla messa domenicale viene installato il coprifuoco generale in città con dei pretesti ma ormai sul fronte militare almeno la questione è a posto sul fronte politico ci saranno altre ripercussioni basti pensare alla mancanza di defenestrazione per un pelo di Federico Chabot eletto presidente della regione autonoma regione che lui ha ottenuto trattando direttamente subito dopo nei mesi immediatamente successivi alla liberazione con il governo di Roma e ottenendo dei decreti luogo tenenziali che saranno la traccia per tutte le altre cose ma non riuscendo a contrastare del tutto degli old transisti per la verità in infima minoranza però sono billati dai francesi che di tempo in tempo organizzano manifestazioni con tanto di cineprese per i loro telegiornali volte a loro dire a documentare la volontà dei francesi di passare con loro volontà che non esiste perché nelle prime elezioni del 46 avendo incitato ad annullare le schede con la parola plebiscit le schede torneranno sostanzialmente indietro cioè saranno irrilevanti il numero delle schede con questa scritta veniamo al dunque in Valle Susa ci saranno modifiche di confine relativamente importanti sulle linee di valle più a sud in Liguria la frontiera verrà ripristinata tra Ventimiglia e Mentone Mentone era stata italiana e quindi ritornava ai francesi ai francesi si considera una parte invece importante della Valle Roia con briga e tenda che attraverso contrastati devo dire molto discursi in certi plebisciti passeranno invece di mano e costituiranno la sostanziale risposta alla pugnalata alla schiena del 40 e attraverso però numerosi sfridi definiti marginali saranno ben 700.000 i metri i metri quadrati di territorio d'alta montagna di Pascoli che passeranno al di là della Valle Roia che passeranno dalla sovranità italiana con la francese con una scia di polemiche di repliche che continueranno fino ad oggi e di aprile di quest'anno del 2021 un'ultima disputa su dei picchetti messi sul versante del Monte Bianco e tuttora la disputa sul fatto se la punta del Monte Bianco sia francese o italiana continua il modesto interesse che c'è stato per questa per questa per questa situazione tutt'altro che pacata tutt'altro che tranquilla viene poi determinato dal fatto che di lì ha poco anzi già nel durante il tema della frontiera orientale e i drammatici mesi del conflitto su quella frontiera costituiranno poi il focus centrale dell'attenzione degli italiani in merito alla limitazione di frontiere tant'è che nella coscienza degli italiani c'è credo il fatto che sulla frontiera occidentale nulla sia avvenuto tranne briga e tenda ma come abbiamo visto non è così grazie grazie mille professore ora tocca al dottor Agosti con intervento sul su Tirolo Alto Adice grazie allora cercherò di riassumere in 15 minuti se è possibile una vicenda che è iniziata nel lontano 46 e si è conclusa in circa 40 anni dopo o più nell'88 ovviamente il terrorismo in Alto Adice su Tirolo è una questione delicata perché diciamo è soggetto a una sua multiformità quindi anche nel trattare questa tematica ho deciso di suddividere le fasi anche per renderlo più comprensibile come fenomeno ovviamente la domanda che mi pongo è se si possa parlare di terrorismo su Tirolese o terrorismo in Alto Adice su Tirol o se si possa parlare viceversa di terrorismo terrorismi su Tirolesi le cause e le origini di questo cataclisma sono state diverse in origine ovviamente le motivazioni che posero inizio o che appunto motivarono il fenomeno terroristico erano politiche quindi la nazione all'Italia nel 19 la gestione fascista negli anni 20 militare pensiamo alla beforeland e socio-economiche a queste motivazioni se ne sono aggiunte altre tante nelle diverse fasi che adesso andremo a vedere ovviamente parliamo di un fenomeno che occorse nel lungo periodo quasi nel lungo periodo appunto dal 46 all'88 provocò 361 attentati e 21 morti la prima fase da me individuata è la fase del terrorismo spontaneo autoctone minore dal 46 al 57 il fascismo in questa fase giocò sicuramente indirettamente un ruolo centrale appunto alle sue politiche le conseguenze di quest'ultime pensiamo alle opzioni portarono un risentimento nei confronti a popolazione italofona la beforeland diciamo così portò ancora di più ad acquirre la divisione tra optanti da bliber che rimarrà una ferita utile sia per il fenomeno eversivo sia per quella che sarà poi la politica dell'SVP trovare appunto una pace comune un obiettivo altrettanto comune nella comunità sud tirolese rimaneva l'obiettivo sia dell'SVP appunto sia del terrorismo in più bisognava aggiungere che la misera lasciata dalle due occupazioni l'incertezza sull'attribuzione della provincia la problematica legata appunto al governo militare alleato che ignorò inizialmente la questione delle opzioni lo scontro locale tra Cielo e NSVP ovviamente portarono ancora di più ad acquire le tensioni sappiamo bene che appunto il sud tirolo fu assegnato all'Italia fu mantenuto dall'Italia le motivazioni sono varie ovviamente guardiamo nell'ottica della guerra fredda il mantenimento del confine del Brennero richiedeva un assetto politico stabile e non inficiato da ingerenze sovietiche cosa che riusciva a garantire all'epoca l'Austria questa decisione subito suscitò ovviamente irritazione visto i vari previsciti promossi dell'SVP appunto in quei mesi e suscitò irritazione anche in merito alla volontà di Francia e Gran Bretagna di non perseguire appunto di non far mantenere il sud tirolo all'Italia stessa il 30 aprile del 46 gli alleati decisero di rifiutare l'ultima richiesta di previscito avanzata dall'Austria iniziarono i concordati bilaterali che porteranno nel 5 settembre del 46 l'accordo del Gasperi Gruber che formalmente sottolineo garantì l'uguaglianza dei cittadini di lingua tedesca e di lingua italiana ma non affrontò compiutamente la questione delle opzioni infatti bisognerà attendere fino al 48 per una risoluzione di queste questioni perché era importante affrontare la questione delle opzioni perché effettivamente non affrontando questa questione molti optanti che poi parteciperanno o sosterranno indirettamente appunto il fenomeno eversivo poterono ritornare in Italia pensiamo a Georg Klotz che fu arrestato appunto a Genova e di lì in poi appunto sostenere anche volontariamente direttamente il fenomeno eversivo in un contesto così cotico infatti è occorso i primi attentati il 3 maggio del 46 vi sarà un attentato dinanzi appunto al quartiere generale della polizia di Bolzano nel giugno del 46 vi sarà un attentato alle infrastrutture ferroviarie nel maggio 47 appunto si cercò di distruggere la famosa statua del Duce a cavallo a Ponte Gardena questi attentati rimasero impuniti si sostenne la azione di alcuni gruppi o perdono di alcuni definiti cani sciolti dai giornali comunque tendenzialmente di agenti provocatori austriaci alla fine verranno però restati alcuni giovani di Laion che presumibilmente avevano militato appunto nell'organizzazione di Weaver Wolf precedentemente quello che si sa quindi di conseguenza del primo terrorismo è che il terrorismo effettivamente rimaneva ancora spontaneo cioè tendenzialmente poco strutturato minore nel senso che riuscì effettivamente a catalizzare l'opinione pubblica fino a un certo punto e autoctono ancora in questa prima fase nel 48 ci sarà il famoso statuto d'autonomia che lascerà scontento ovviamente la gran parte della popolazione tedescofona però dal 48 al 56 la presenza dell'UZC dell'ufficio zone di confine indirettamente nell'immediato disincentivò appunto la recrudescenza della violenza politica perché creò un cane di dialogo tra Roma e Bolzano ed esercitò forte pressioni appunto per il mantenimento di una cultura italiana in provincia forte la revisione della questione delle opzioni nel 52 la famosa marcia della morte nel 53 la fine dell'UZC nel 54 furono seguiti anche dalla crescente forza dell'SVP in ambito regionale e ovviamente anche dalla fondazione della famosa moderna Austria assieme alla fondazione della Bergis e Bund il terrorismo quindi poteva contare su una rinnovata forza sia dell'Austria sia dell'SVP e il memorandum austriaco del 56 sancì effettivamente il ritorno della violenza politica di fatti lo stile a gruppo che contava meno di 20 membri agì per la prima volta tra il 20 e il 21 settembre del 56 l'obiettivo era quello di catalizzare questo è l'obiettivo principale comune alla prima fase del terrorismo di catalizzare attraverso l'uso delle bombe sia l'opinione pubblica austriaca sia quella europea in merito ovviamente alla questione altottesina su tirolese il gruppo stile agì fino al 57 si rifaceva ovviamente sempre con la prima fase però aveva una caratteristica innovativa effettivamente già come il secondo terrorismo poi farà era legato direttamente sia alla politica estera sia la politica locale l'organizzazione si scioglierà si scioglierà di lì a poco a causa dell'arresto appunto della maggior parte dei suoi membri stila poi ritornerà in politica negli anni 80 la fase del terrorismo strutturato a gestione autottona 57-61 è la seconda fase da me individuata nella seguente fase notiamo importanti novità rispetto a prima vediamo appunto un terrorismo molto più strutturato pensiamo al BAS che contava centinaia di membri suddivisi in cielo locali indipendenti vi sono elementi esteri che comunque sono sottoposti per la maggior parte del tempo alla componente sudtirolese quindi rispondono alla componente sudtirolese quindi ancora un terrorismo a gestione autottona e vi sono soggetti anche destrati all'uso di esplosivi si mantengono i legami come già nel gruppo stila tra politica estera e gruppi avversivi politica locale e gruppi avversivi il BAS appunto nasce nel 56 ma perché appunto ho deciso di fare iniziare la seconda fase dal 57 perché il BAS fino al 22 novembre 57 tendenzialmente non divenne propriamente un'organizzazione eversiva teoristica poiché più che altro si diede a manifestazioni eclatanti e disobbedienza civile dal 22 novembre 57 in poi frutto anche diciamo così quell'attentato del raduno di Castelfirmiano e della scese di optanti appunto nella gestione dell'SVP nacque e diciamo così si portò avanti la seconda fase del terrorismo dinanzi a ciò vi fu che cosa vi fu anche sempre il mantenimento del medesimo obiettivo comune rispetto al primo terrorismo cioè usare le bombe contro le cose per mantenere tendenzialmente la tensione il punto sulla vicenda altotesina e nel mentre l'Austria manteneva comunque una convergenza su questo obiettivo pensiamo a Krasch che è appunto mister di essere austriaco dal 59 che diciamo indirettamente sostenne i primi attentati conobbe anche direttamente i primi membri del BAS e fu patrocinatore del ricorso all'ONU nell'ottobre del 60 quel ricorso all'ONU che non portò tendenzialmente a nulla e che anzi acquiva l'umore nel BAS stesso cioè ovvero i stessi membri del BAS pensarono che era totalmente inutile ad operare appunto le bombe nel tentativo di catalizzare l'opinione pubblica e far risaltare la questione altotecina su un piano internazionale poiché il piano internazionale disattendeva le aspettative quindi dinanzi a ciò gli estremisti come appunto Clozzi e D'Amplaz presero sopravvento e introdussero la guerriglia per esempio le bombe collocate in un bar a termino gli studenti italiani appunto a termino nella primavera del 61 mostravano che oramai l'intenzione era colpire le persone non più le cose Magnago la chiesa locale si distanzierà in maniera ancora più netta rispetto al terrorismo e di conseguenza il BAS dopo anche una serie di arresti in quegli anni si troverà isolato popolarmente e ovviamente politicamente si giungerà la notte dei fuochi che credo sia forse l'evento più conosciuto anche masmediatico più conosciuto nel giugno del 61 e lì compariranno le prime confraternite di studenti nazionalisti neonazisti che porterà questa organizzazione paramilitar all'abbattimento di 40 tralicci nei pressi di Bolzano lo scopo qua era diverso rispetto precedentemente a quello che abbiamo visto lo scopo era incentivare una sollevazione popolare non semplicemente giungere a portare la questione autodesina su un piano internazionale cambiando l'obiettivo quindi cambia anche il terrorismo infatti la notte dei fuochi sancisce potenzialmente a mio parere la fine di un terrorismo o quello del secondo terrorismo l'istituzione della commissione 19 e il secondo ricorso all'ONU appunto mostrano oramai quanto la violenza politica per i moderati e per le ampe frange della popolazione sia totalmente inutile infatti sia Craschi sia l'SVP sosterranno la commissione come mezzo unico di risoluzione in linea generale possiamo dire appunto che la violenza politica fu uno strumento che di lì in poi rimase appunto nelle mani dei più estremisti fra i sottirolesi e gli esteri la fase del terrorismo estero etnonazionalista strutturato settembre 61-67 la terza fase qua notiamo ovviamente essendo appunto un terrorismo estero un'altra novità importante rispetto a prima l'organico è prettamente estero estremista non autottono che assume anche un atteggiamento paternalistico nei confronti a popolazione locale quindi appunto si disinteressa dell'esigenza della popolazione locale appunto la scelta degli obiettivi le modalità di azione sono stabiliti da un gruppo di collaboratori estremisti cambiano gli strumenti del terrore non si adottano più soltanto le bombe ad orologeria ma si inizia a utilizzare professionalmente le armi mutano anche gli obiettivi non si usano più le bombe contro le cose per semplicisticamente appunto portare a sensibilizzare sulla vicenda altotecina su tirolese l'opinione pubblica ma per ostacolare appunto il dialogo stesso un esempio classico può essere la strage di Cimavallona ma ne sarebbero molti altri in quegli anni in cui le bombe vengono adoperate le bombe ma più che altro anche le armi da fuoco per uccidere per tendenzialmente bloccare il dialogo tra Roma e Bolzano e Roma e Vienna strage di Cimavallona 67 anche questa una strage nota che bloccò i colloqui bilaterali tra Italia e Austria e bloccò il processo di integrazione europea dell'Austria stessa quella azione stessa perché era così importante era importante appunto perché nel mentre l'Austria voleva entrare nelle comunità europee ma questo processo di integrazione dell'Austria iniziato nel 63 appunto si è concluso con nulla di fatto a causa di Cimavallona e del veto italiano di conseguenza di lì a poco si istituirà un calendario operativo per portare un accordo bilaterale in merito all'azione appunto nel novembre 67 da condurre per portare alla risoluzione della questione e di lì a poco si porterà avanti anche un'ondata d'arresti da parte dell'Austria ovviamente contro i gruppi eversivi il risultato quale fu fu la fine del terzo teorismo che tendenzialmente fu despodestato e di conseguenza il dialogo politico potè finalmente possiamo dire imporsi con l'approvazione del pacchetto nel 69 la quarta e ultima fase è una fase molto complessa la fase del teorismo estremista italiano e tedesco anacronistico e presumibilmente ha anche deviato 78-88 come vediamo anche dalla periodizzazione siamo dieci anni dopo anche più dall'ultimo attentato a Trento nel 67 alla quarta fase si giunse in ragione i diversi fattori e qua abbiamo appunto altre motivazioni che si aggiungono il contesto politico era radicalmente mutato la SVP e la ADC avevano perso il monopolio politico in provincia a favore dei gruppi più radicali talofoni tedescofoni la situazione economica ovviamente i grandi eventi macroeconomici degli anni 70 avevano favorito la componente allo glotta appunto la crescita del settore turistico mentre la componente italiana arrancava nel settore secondario in tutto questo bisogna aggiungere anche la tensione che scaturì dal censimento dell'81 il teorismo che nacque quindi da queste tensioni era diverso rispetto al precedente era anche di matrice italiana era composto nel caso tedesco di elementi criminali e nel caso italiano vi erano forti sospetti che vi fossero elementi dei servizi segreti si potrebbe citare il caso Stoppani che è ancora oggetto di dialogo di atribe era anacronistico in virtù della consolidata politica bilaterare oramai avviata verso un accordo cioè appunto il terrorismo veniva visto come un strumento oramai letteralmente fuori portata ovvero i principali politici austriaci, italiani e locali espresso nella maggioranza dei casi disinteresse appunto per quegli attentati il risultato fu uno sconto tra estremisti ad un attentato di una matrice ne faceva seguito uno di un'altra questi gruppi scomparvero e questa è la problematica che ha uno storico nell'affrontare questo quarto terrorismo perché nel caso italiano scomparve il terrorismo in maniera non mai definita come neanche l'organico o ebbe vita molto breve fu poco supportato come nel caso tedesco di Antirol le conclusioni sono diverse cioè ritornando alla domanda iniziale si può parlare di terrorismo o terrorismi di terrorismo sottirolese o terrorismo in alto ai sottirol tendenzialmente la violenza politica in alto ai sottirol si può ricondurre anche per un'esigenza tecnico narrativa ad un unico terrorismo però è molto difficile trovare un'omogeneità negli organico negli intenti immediati e nei supporti all'interno dei gruppi versivi delle varie fasi un fattore che collega i vari gruppi versivi delle varie fasi è quello geografico il che mi fa pretendere appunto per la denominazione di terrorismo in alto ai sottirol più che per l'etichetta terrorismo sottirolese che è più idonea solo per le prime fasi del fenomeno eversivo altro denominatore comune rimangono alcuni legami personali che i vari protagonisti di diverse fasi intrattennero tra di loro per esigenza quindi tecnico narrative è opportuno ad operare il singolare quindi terrorismo in alto ai sottirol ma il plurale terrorismo in alto ai sottirol rimane secondo me attualmente allo stato attuale degli studi più consono ho concluso non vorrei rubare altro tempo ai colleghi grazie dottor Agosti per la sua presentazione strutturata in maniera così efficace anch'io siccome anche il mio tema abbraccio un periodo di tempo abbastanza lungo di circa dieci anni procedo per punti siccome l'utilizzo di forme di violenza organizzata nel territorio al confine tra Italia e Jugoslavia fondamentalmente inizia prima della seconda guerra mondiale ho optato per circoscrivere cronologicamente il periodo di indagine dal primo maggio del 45 liberazione di Trieste al memorandum di Londra del 5 ottobre 54 che sostanzialmente ha sancito la cristallizzazione de facto del confine in lungo tracciato non dissimile dalla linea Morgan non molto diverso dalla linea Morgan se non altro i principali attori in questo decennio di contrapposizione internazionale sono stati la Repubblica Italiana chiaramente che pur non disponendo del territorio includo nel territorio libero di Trieste e vi ebbe una certa influenza sia con i partiti politici filitaliani che attraverso peculiari strutture dedicate esplicitamente alla gestione del territorio l'ufficio zone di confine poi la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia era ancora popolare in questa fase poi cambia nome lo Stato che amministrò direttamente la zona B del TLT ed estese la propria influenza alla restante parte con i partiti politici filo jugoslavi e anche dei partiti politici locali questo è un altro attore che è opportuno citare per completezza ebbero un'agenzia di un'agenda di interessi anche propri pensiamo agli indipendentisti in una certa autonomia rispetto agli stati infine vi furono le potenze internazionali soprattutto gli Stati Uniti e la Gran Bretagna che erano presenti sul campo attraverso l'amministrazione della zona del TLT ma anche l'Unione Sovietica che pure dopo il 48 vede ridimensionarsi notevolmente la propria influenza nel territorio se non attraverso il partito comunista locale che rimane o meglio diventa filo sovietico dopo l'espulsione della Jugoslavia dal Cominfor per quanto concerne lo sviluppo degli studi sulla logica della violenza in quest'area si possono citare brevemente alcune fasi nella prima fase a ridosso degli eventi ma per alcuni decenni queste violenze sono state interpretate per lo più dalla storiografia jugoslava e da quella della sinistra locale come una vendetta per le precedenti violenze fasciste e la guerra mentre invece le violenze promosse dal campo jugoslavo venivano sostanzialmente giustificate e comunque interpretate in questo modo alla fine della guerra fredda che si è tradotta anche in territorio ex-jugoslavo in una maggiore apertura verso una considerazione critica dell'operato dei poteri comunisti nel periodo postbellico coincide in Italia soprattutto a ridosso del confine un diverso modo di concettualizzare la violenza politica che in questo modo diverso in alcuni autori porta addirittura alla possibilità di commensurare le foibe e la risiera cioè le violenze perpetrate dagli jugoslavi e quelle perpetrate dai nazisti più recentemente invece c'è stata una nuova stagione di ricerca che sono state promosse probabilmente anche dalla approvazione del giorno del ricordo e all'interno di questa stagione è stato possibile valorizzare nuovi materiali afferenti all'ufficio zone di confine il che ha permesso una più equilibrata considerazione di una serie di episodi tra cui anche penso ai lavori di Millo gli incidenti di Trieste del 1953 procedendo brevemente ad una descrizione delle logiche della violenza in una serie di fasi si potrebbero così suddividere la prima fase è quella che ha visto un confronto tra filo jugoslavi e anglo americani con l'ingresso delle truppe partigiane nel territorio rivendicato che fino al 43 era italiano si assiste ad una serie di violenze che sono state proprie dell'operato della Jugoslavia nel suo complesso anche in altri territori sostanzialmente ci si concentrò nella persecuzione di qualunque forza armata non riconducibile al movimento partigiano e anche personale politico formalmente sia colluso con il precedente regime che formalmente antifascista ma esterno al al movimento propriamente jugoslavo era una logica peraltro che era stata adottata in Jugoslavia dove la formazione del fronte resistenziale aveva seguito una logica diversa e qui ha avuto una serie di effetti particolari in ogni caso l'operato degli organismi perché erano stati fondati degli organi di amministrazione civile in questa breve parentesi di occupazione jugoslava poi è risolta ai primi di giugno del 45 ma l'operato di questi organismi potè esprimersi solo per alcune settimane prima che il governo militare alleato istituito a seguito degli accordi di Belgrado e Duino ripristinasse la precedente struttura amministrativa fascista il tentativo di queste assemblee filo-yugoslave di restare attivi in regime di semi-clandestinità inaugurò una stagione di confronto con il GMA che assunse forme anche violente soprattutto al di là di incidenti da strada occupazioni di scuole in cui gli anglo-americani consentivano l'operato di afferenti all'immigrazione politica slovena questa logica di contrapposizione tra filo-yugoslavi e anglo-americani durò possiamo dire fino alla primavera successiva quando il fronte italiano filo-italiano diede prova di essersi riorganizzato questa seconda fase infatti prende l'abbrivio dalla visita della commissione interalleata una commissione che era stata inviata nel territorio conteso per informare della situazione sul campo i lavori della conferenza di pace e proprio in questa occasione il fronte filo-italiano dimostrò di potersi contrapporre efficacemente a quello filo-yugoslavo era una novità perché il fronte filo-italiano era stato sparegliato dagli eventi dal 43 in poi sostanzialmente in questa fase i fili-italiani sembrarono per certi versi operarono quasi in connivenza con gli anglo-americani e questo portò a scoppi di violenza in concomitanza con l'entrata in vigore del trattato di pace nel settembre del 47 quando il subentro dell'autorità italiana a quelle anglo-americane portò a episodi di grande violenza a Gorizia con una serie di incendi e di pestaggi di sloveni lo stesso accade a Monfalcone dove vennero bersagliate soprattutto le organizzazioni di sinistra mentre a Trieste continuò l'amministrazione anglo-americana senza che i fili-italiani di tutto prima potessero avere molta parola in merito questa fase possiamo ritenere si concluda con la cacciata della Jugoslavia dal Cominform che inaugurò una fase di orientamento filo-occidentale di Belgrado una fase che iniziò a dare i propri frutti nei mesi e negli anni successivi possiamo dire a partire dal 1949 questo evento portò ad un cambiamento di condotta del GMA cioè dell'amministrazione della zona A del TLT perché qui il generale Winterton subentrò nel ruolo di comandante dal precedente ERE e inaugurò una linea più equilibrata e dal punto di vista italiano filo-slovena e questi mutamenti di politica locale portarono ad un rinsaldarsi del fronte filo-italiano e questo contesto questa situazione aprì la strada anche a forma di collaborazione tra i partiti italiani antifascisti e il movimento sociale italiano cui fu fornito era molto forte peraltro nel territorio un margine di legittimazione questa situazione trovò un suo parossismo proprio a ridosso del del contenzioso confinario interitali Jugoslavia quando la Jugoslavia mise in atto nell'estate del 53 una serie di iniziative per sottolineare l'indivisibilità del TLT probabilmente il progetto di Belgrado era risolvere la questione del confine attraverso una forma di cogestione del territorio non una spartizione per una serie di motivi che affondavano le proprie radici nel cambiamento dell'amministrazione americana con il subentro di Eisenhower a Truman invece in maniera per certi versi sorprendente nell'ottobre del 53 tra gli anglo-americani annunciarono la spartizione del TLT in corrispondenza delle due zone questo portò prima ad una forte esplosione di violenza e disordini pubblici a Belgrado con la demolizione la semi-demolizione delle ambasciate occidentali e dal momento che questi disordini belgradesi bloccarono l'accessione di Trieste all'Italia portò a Trieste nei primi giorni di novembre del 53 a incidenti noti come le giornate di Trieste che videro il fronte filo italiano contrapporsi a quello agli anglo-americani all'amministrazione al governo militare alleato in incidenti che costarono la vita a sei persone detto questo cederei la parola a chi mi segue per non sforare troppo con i tempi il professor Blando con il suo paper sulla situazione in Sicilia grazie sentite sì posto perfetto grazie per questo invito a partecipare a un paper molto bello molto interessante io scelgo spostiamo il nostro sguardo verso sud verso la Sicilia con un arco di tempo molto più breve di quello trattato fino adesso dai miei colleghi è un arco di tempo breve ma intenso perché va dal 1943 al 1947 e in questo arco di tempo brilla sopra le macerie non solo reali ma anche morali e sociali della guerra in Sicilia la gometa del movimento indipendentista siciliano il MIS scelgo queste due date perché 1943 naturalmente lo sbarco degli angoli alleati in Sicilia e il crollo del fascismo proprio a seguito della della vittoria rapida non in dolore degli alleati in Sicilia ed il punto finale di questo ragionamento è il primo maggio 1947 giorno della strage a Porta della Ginestra in cui si in cui un gruppo di banditi guidati da un capo carismatico che si chiama Salvatore Giuliano spara sui manifestanti che festeggiano il primo maggio uccidendo undici persone ferendone tre a morte che che moriranno lì a qualche giorno è il referendo invece con ferite che portano tutta la vita un'altra trentina di persone quindi quello che mi che voglio sottolineare in questi 15 minuti è il rapporto molto stretto che lega il movimento indipendistica siciliano con l'uso della violenza e poi con l'uso del terrorismo e questo ci porta ad un ragionamento che non è solo locale di quegli anni ma un ragionamento che poi in qualche modo investe anche la storia dell'Italia repubblicana perché questa di portare la ginestra è la prima strage della storia di un'Italia che ancora non era una repubblica nel primo maggio del 47 gli anni inquieti ed è un messaggio di sangue rivolto ai grandi partiti nazionali non solo ai comunisti social comunisti e ai sindacati che festeggiavano il primo maggio ma anche all'advocacia cristiana ai partiti nazionali nel momento in cui c'è la scelta il passaggio proprio in quei settimane in quelle settimane la rottura dell'unità di governo nazionale e l'uscita dei social comunisti dal governo e l'inizio della guerra fredda e quella strage è in qualche modo un messaggio lanciato in quella direzione proprio sul momento sull'esplosione finale dell'indipendentismo siciliano cose come un'eredità lasciata alla Repubblica ed quindi il movimento indipendentista nasce nei primi giorni successivi allo sbarco degli alleati in Sicilia quindi è già attivo nei primi giorni già all'indomani del 10 luglio già vengono diffusi i primi i primi volantini i primi comizi del movimento indipendentista e quindi questo è importante perché è il primo impatto in qualche modo degli alleati con la politica e la società della prima regione liberata occupata dalle truppe alleate e quindi il primo il primo banco di prova della politica di occupazione degli alleati e dei rapporti del tipo di politica che questi alleati vogliono fare in Sicilia e poi nel resto dell'Europa come si sa gli inglesi e gli americani avevano due visioni diverse del modo in cui bisognava organizzare amministrare governare i territori liberati o occupati ancora non c'è l'8 settembre lontano due visioni si contrappongono quella inglese e quella americana quella inglese è quella classica della sperante storia coloniale inglese quella dell'indirect rule si governa direttamente appoggiandosi alla grande aristocrazia si governa appoggiandosi direttamente portando dalla loro parte direttamente la parte più ricca della società è una visione della società siciliana che hanno gli inglesi molto schematica molto primitiva molto colonialista da una parte una società povera retratta contadina ignorante dall'altra parte una stretta nobiltà antica forse di antiche simpatie inglesi con cui bisogna governare con cui dare permettere di governare il territorio il tempo che si va avanti con la guerra e magari questa nobiltà ha qualche simpatia inglese che viene coltivata e gli inglesi sono gli unici che hanno delle informazioni di prima mano che vengono dalla Sicilia al contrario degli americani che non dispongono di informazioni che vengono direttamente dalla Sicilia quindi hanno dei servizi segreti gli inglesi che da qualche tempo riescono ad avere informazioni anche se molto filtrate dalla Sicilia stessa quindi il momento il momento dipendentista viene visto con una certa simpatia con una certa tolleranza da parte degli inglesi e non a caso tra i suoi vertici ci sono uomini della aristocrazia siciliana i tasca i carcaci i plan di famiglia nobiliare da secoli in Sicilia dall'altra parte invece la visione americana la visione di Roosevelt la visione del New Deal una visione della Sicilia che si basa su un calco che è elaborato sulla storia delle comunità siciliane emigrate negli Stati Uniti e quindi è una visione tra virgolette progressista da da melting pot la versione di una società essenzialmente buona forse antifascista che si basa su rapporti familiari e di vicinanza forti e che magari viene governata attraverso valori tradizionali valori di un certo mondo antico in cui hanno un peso specifico le famiglie il capofamiglia il prete naturalmente per la grande alleanza tra l'industria e il Vaticano e forse anche forme di controllo della vita della vita legale dell'ecriminalità antica anche qua siciliana che era quello della mafia e di altre organizzazioni quindi il simbolo forse sono non solo la grande affluenza di immigrati siciliani nelle truppe che sbarcono in Sicilia appunto perché negli Stati Uniti questo diventa un grande volano per il partito democratico si pensa solo che ai vertici dell'OSS cioè del nuovo quello che poi sarà il servizio segreto americano vengono questi due giovanissimi figli dei migrati di un paese in cui c'era Catania Melilli negli Stati Uniti Max Corvo che ha appena 22 anni e si e intorno a lui tutto questo gruppo di OSS sono tutti ragazzi che prevengono da queste comunità siccolo americane che quindi tornano come gli eserciti tra virgolette e che riporta di nuovo la ricchezza e un po' la libertà dei genitori che sono conquistati negli Stati Uniti questo spiega anche il modo in cui molti vengono accolti in cui le truppe vengono accolti come liberatori e questo spiega anche perché molti del personale amministrativo che subito viene scelto dal governo occupante della Sicilia e viene soprattutto da questo mondo aristocratico da questo mondo paesano e non a caso anche molti di questi sindaci che vengono scelti al posto dei potestà vengono da una storia che è una storia di tradizioni di grandi tradizioni nobiliari oppure sono scelte dai preti oppure sono scelte che vengono da tradizioni meno illegali come quelle legate alla criminalità organizzata c'è da dire che anche in questo caso tra inglesi ed americani sul rapporto con la criminalità organizzata in Sicilia c'è una visione molto diversa l'uno dall'altro perché gli americani non perderanno ad azionare proprio qualche mese dopo una imponente opera di allontanamento di tutti i sindaci di tutti gli amministratori che in qualche modo erano già state condannate per mafia detto segnalazione dei carabinieri ma chi fa parte del Levis in qualche modo fanno parte tutti quelli che sono ex fascisti in un'isola che amava ripetere Mussolini era un fascista fino al midollo c'era qualche social comunista rivoluzionario che pensava di fare una rivoluzione tutti quelli che avevano paura del cambiamento tutti quelli che avevano paura dell'opera dell'opera azione il suo leader politico Andrea Finocchiaraprile per fare un esempio era figlio di Camillo Finocchiaraprile quindi grande personaggio dell'Italia liberale anche lui grande esponente faceva parte anche dei governi ultimi liberali italiani grande esponente della massoneria poi passato indenne sotto il fascismo anzi più volte cercò Camillo Andrea Finocchiaraprile di entrare nelle grazie del fascismo più volte chiese di entrare nel partito più volte chiese di avere delle cariche più volte chiese di essere nominato senatore pur di essere un fascista poi alla fine si scopre di essere antifascista ed separatista quindi l'idea di separare la Sicilia dalla storia d'Italia quindi ci troviamo di fronte ad una invenzione di una nazione all'invenzione di una tradizione che naturalmente ha quest'idea l'ancora con un uso spregiudicato della violenza e questo uso spregiudicato della violenza trova la sua manifestazione nel reclutamento che fanno già nel 45 all'interno del movimento indipendista siciliano di un esercito quindi un braccio armato di un esercito che è l'esercito volontario per la liberazione della Sicilia che ha ruola tra i suoi dirigenti anche e soprattutto dei banditi delle grandi bande di criminali che in quel momento in Sicilia a causa e quando entro spiego un po' nel pepe a causa del caos naturalmente che c'è in Sicilia in questi anni prosperano con il mercato nero con la reitenza alla leva con il grande travolgimento e stravolgimento della vita sociale e quotidiana tra queste bande che vengono prese e far ruolate direttamente nel Levis c'è la banda di Salvatore Giuliano giovanissima anche lui è una terra giovane giovanissima aveva circa vent'anni ma già importante bandito dell'entratore siciliana anche lui come dire arricchitosi con il mercato nero con cui si arricchivano sia piccoli che tutti i grandi produttori e i grandi produttori proprietari terrieri siciliani che diventa viene nominato addirittura colonnello e Levis lui non ha fatto nemmeno il servizio militare e qui inizia uno scontro uno scontro armato con lo Stato uno scontro armato con quello che restava dello Stato italiano uno scontro armato con la polizia ma soprattutto con i carabinieri che controllavano un po' quello che restava del territorio e di uno Stato molto ectoplasmatico ancora lo scontro è uno scontro che vado velocemente lo scontro è uno scontro duro uno scontro violento tanto che alla fine il governo Parri decide di non solo di ripestinare una polizia speciale fascista richiamando al servizio gli uomini del fascismo di queste polizie speciali che venivano a caso da quello che ci diceva poco fa Federico cioè di venire da quella zona siamo formati e avevano agito in quella zona terribile del nord-est italiano in cui avevano agito con grande spregiudicatezza faccio solo il nome di Messana ad esempio e quindi come dire a Parri noi utilizziamo questa forza perché ha malestremi estremi rimedi ma la vera sconfitta del movimento intermedio di segnale il Miss avviene attraverso le elezioni avviene attraverso le elezioni ed avviene quindi per via democratica questa è la grande vittoria su questi movimenti che poi non resistono al momento delle elezioni qualchi non solo non solo perché non riescono ad attecchire poi nella realtà sociale ma perché si formano i partiti nazionali prima di tutto le democrazioni cristiane e il partito comunista in Sicilia che assorbono quella che che togono lo spazio al momento sociale inventandosi una tradizione loro autonomista questo non è entro però l'invenzione dell'autonomismo siciliano che affonda anche questa nel fascismo è una grandissima invenzione un grandissimo portato alla Repubblica Italiana da qui il progetto autonomista che toglie spazio e respira al progetto separatista il progetto autonomista è un progetto della democrazia cristiana del partito comunista ma soprattutto toglie anche una volta validità sociale al momento al momento indipendentista perché tutti e due i partiti nazionali in qualche modo investono sulla questione contadina ed si fanno portatori di un messaggio di rinnovamento nella società che partiva dal mondo contadino ed non a caso la lotta della terra sarà una delle lotte su cui poi si formeranno i grandi partiti i grandi partiti nazionali l'impatto del 46 del referendum sul movimento indipendentista è un impatto catastrofico perché perché il movimento indipendentista non ha alcun successo lettorale fa appena l'otto per cento dei voti il quattro per cento dei voti quindi elegge pochissimi deputati quattro deputati ma soprattutto perché ha un'opzione l'opzione monarchica sceglie la monarchia sceglie la monarchia quindi rompendo già una sua idea l'idea di essere indipendente dalla storia di Italia indipendente dal Savoia si capisco molto bene che la Sicilia è monarchica ma in monarchia nelle grandi città Messina Catania a Palermo dove la monarchia ha raggiunto livelli di quasi pubblicità e di voti ma invece nei paesi e nelle campagne vince la repubblica vince la repubblica che là c'è la lotta là c'è lo scontro là c'è la nuova politica là c'è la nuova politica quindi una mobilitazione nuova ed la sconfitta definitiva del momento indipendente siciliano ancora una volta con le elezioni sarà nel 47 le prime elezioni per l'assemblea regionale siciliana che appena votato appena fatto perché la repubblica ha appena inserito lo statuto siciliano come legge all'interno della stessa costituzione italiana quindi non uno statuto concesso non uno statuto dato ma uno statuto pattuito tra la Sicilia e la nuova repubblica a queste elezioni del 47 la destra monarchica la destra agraria ha circa il 40% dei voti insieme a quello che resta nel momento indipendente siciliano la democrazia cristiana il 20% quindi molto poco ed il partito social comunista cioè l'aggruppamento del popolo social comunista il 30% dei voti quindi di quei giorni successivi proprio a quella a quella elezione quella elezione è la strage di portere alla ginestra la strage di portere alla ginestra in cui in cui cambia radicalmente il modo di rivendicare l'azione terroristica non è più in nome dell'indipendenza siciliana ma è in nome della guerra fredda della lotta contro il comunismo e della guerra contro il comunismo quindi è un massaggio alla nuova repubblica italiana noi stiamo combattendo contro il comunismo quindi noi siamo all'interno della guerra fredda e non a caso Giuliano diventa un grande eroe anticomunista nella stampa americana e che ne faranno poi un grandissimo eroe popolare che è degno di grandi romanzi che vendono milioni di copie pensiamo al seceriano di Puzzo o di straordinari film che ne hanno fatto un successo mondiale circa 25 milioni di pagine su Google dedicate a Giuliano comunque e questo la strage in cui finisce la strage rappresenta il primo messaggio di sangue alla Repubblica e ai suoi partiti nazionali la destra prima di sommergersi prima di essere assorbita all'interno della democrazia cristiana quindi di essere sconfitta la democrazia cristiana cerca un mando un messaggio una spinta verso il nuovo ordine e questo spinta verso il nuovo ordine lo manda attraverso l'azione terroristica quindi creare l'ordine attraverso il disordine ma quello che più con questo chiudo importante di questa vicenda è che questo virus che si cerca di mettere nel corpo nuovo della Repubblica in realtà subito trova degli anticorpi e che alla fine questo terrorismo per quanto radici politiche internazionali forti aveva non riesce ad uccidere nemmeno il giovane il giovane corpo della Repubblica appena nata grazie grazie a lei professore blando io contrariamente a quanto annunciato prenderei se possibile piuttosto cinque minuti alla fine lasciando adesso trovo opportuno la parola alla professoressa Rutter nostra di Scassant giusto prima volevo semplicemente ecco chiarire che il fine di questo scambio di opinioni di conoscenza su questi aspetti il riferimento alla prospettiva comparata che è nel titolo del panel voleva essere per ora mettere un po' le carte sul tavolo di questi aspetti apparentemente così diversi giusto per cominciare a capire se ci fosse qualcosa su cui lavorare proprio in una prospettiva comparata io direi peraltro che qualche spunto c'è ma ne parleremo magari alla fine grazie professoressa mi sentite sì sì ok sì la prospettiva comparata è un buon keyword non so la parola italiana in questo momento però vorrei prima ringraziare sia gli organizzatori Cisco per questa conferenza molto riuscita e anche Goraz Baez come organizzatore il panel mi dispiace molto di non vederlo qui sullo schermo e anche ai colleghi per i quattro paper molto interessanti molto densi che infatti penso anch'io parlano molto bene tra di loro siccome il panel come leggevo nella outline del collega Baez si propone di riflettere sulle potenzialità di un progetto di ricerca con una prospettiva comparata sui borderlands italiani vorrei limitarmi nel mio commento su alcuni nodi tematici che a mio avviso si prestano molto bene per un tale paragone sarò molto breve perché vorrei davvero sentire i vostri pensieri comparativi sarebbe peccato che se non arriviamo nemmeno ad uno scambio come purtroppo è successo in alcuni panel a cui ho ascoltato dunque qui è il mio piccolo elenco di un paio di nodi tematici comuni con un paio anche di domande i quattro paper fanno emergere l'immagine di un'Italia che a guerra finita si trovava davanti a conflitti violenti in quasi tutte le sue periferie conflitti territoriali sociali ideologici un nodo tematico comune dunque sembra il fatto che lo Stato nazionale non fu affatto una cosa compiuta continua a far fatica a giungere nelle periferie a consolidarsi a rimettersi in atto a rinnovarsi dunque la domanda è se forse è lecito assumere che il mito fondatorio della seconda repubblica il mito della resistenza antifascista nel corso dei anni è distratto dal fatto che lo Stato nazionale italiano era in sostanza uno Stato debole che non sapeva trovare soluzioni ai conflitti nei suoi borderlands la multietnicità di questi borderlands settentrionali sembra solo un fattore tra tanti il caso della Sicilia potrebbe forse funzionare allora come collettivo lo sguardo a volte troppo etnicizzato sui altri borderlands e forse anche viceversa come si figura la nozione indipendista della Sicilia nazione si è messa in un quadro comune con i conflitti etnici ai confini del nord connesso a questo è la domanda dello Stato speciale di autonomia installato con la Costituzione del 48 e nel Friuli Venezia Giulia nel 63 la tensione tra centrismo e autonomismo c'è in tutti i quattro paper per esempio al confine occidentale una delle percepite minacce sembra sia stato lo Stato centrista francese mentre al confine orientale la minaccia fu piuttosto ideologica tanto che anche la maggioranza dei comunisti italiani nell'area erano abbastanza feroci difensori della appartenenza della regione d'Italia l'ufficio zona di confine installato nel 46 sembra abbia avuto una visione centrista anziché autonomista il paragone dei 20 anni del suo lavoro nei vari borderlands nella Venezia Giulia nell'alto alice di Genticolare è un altro nodo comune nei paper poi c'è il ruolo dei alleati condizionato sia dalle realtà nei vari paesi confinari l'Austria la Francia la Jugoslavia che dal contesto globale della guerra fredda trovo molto interessante l'argomento che gli inglesi in Sicilia agivano come erano abituati ad agire nelle loro colonie con la indirect rule tramite le elite locali mi sono chiesto se un tale comportamento era condizionato dalla situazione specifica siciliana o se era un atteggiamento generalizzabile gli alleati britannici angloamericani sovietici nei vari borderlands il loro comportamento era sempre lo stesso diretto da sopra o anche qui sono riconoscibili differenze locali il paragone dell'ognipresente violenza politica cosa mette in rivelazione primo c'è la natura della violenza come continuò ad operare nel dopoguerra la cultura di violenza fascista e del suo repertorio pratico imparato per due decenni i paper soprattutto quello sull'Alto Adice e quello sulla Sicilia chiaramente indicano gli intrecci perpetuati tra stato e milizie paramilitari banditi guerriglieri terroristi come fu usata la violenza per provocare il nemico politico per renderlo debole e per poi eliminarlo e in che modo poi la violenza si distaccò dall'obiettivo politico ideologico e diventò infine a se stesso una cosa privata poi sempre legato all'uso di violenza politica ma non solo è possibile differenziare domanda nell'analisi del dopoguerra nei borderlands tra le condizioni rilegate specificamente alla guerra e quelli che invece hanno vita più lunga i quali la guerra magari ha solo radicalizzati o trasformati in qualche modo e finalmente la costituzione del 48 introdusse un divieto di qualsiasi formazione rinnovata di un movimento fascista visto che sembra leggero dire che pratiche fasciste di violenza politica continuarono sotto altri nomi cosa può contribuire la comparazione dei borderlands riguardo all'implementazione e al consolidamento della democrazia parlamentare nel dopoguerra in Italia e finisco qui e mi farebbe molto piacere sentire i vostri pensieri sulle possibilità di comparazione grazie se non c'è qualcun altro comincio io che ho già preso qualche appunto altrimenti lascio chiaramente la parola giusto per non sprecare il poco tempo no io ho proprio una piccola osservazione micro domanda curiosità se posso entrare adesso se no faccio dopo non so era più che altro rivolta al caso della confine italiano-francese e italo-jugoslavo in qualche maniera il caso altoatesino è quello in cui si verificano situazioni di violenza terroristica nel caso italo-francese mi sembra ci sono situazioni comunque di fine guerra e io chiedo anche se mi sono conosco meglio il caso del confine orientale ma in effetti gruppi terroristici organizzati cioè Maria Pasquinelli c'è questa persona che uccise l'inglese il brigadiere inglese a pole il 10 febbraio del 47 un piccolo processo per possesso d'armi e diffusione di volantini a fiume tra cui era coinvolto lo storico Mario Dassovic ma gruppi organizzati che poi erano quelli che diedero forza dal 45 dopo il 45 cercano ci sono Federico guardando queste carte ha potuto vedere se c'è qualcosa di più e invece dall'altra parte del confine italo-francese c'è anche insomma ci sono delle organizzazioni o dei tentativi o del da un punto di vista un po' più che vengono portati avanti nel corso degli anni grazie Vanni io risponderei alle numerose sollecitazioni della professoressa Rutter che sono in qualche modo nella grammatica del panel e poi chiaramente rispondo anche a te Vanni assieme credo anche al professor Soave io anzitutto ringrazio con grande partecipazione la professoressa Rutter per questa lettura così approfondita e stimolante dei nostri lavori e per gli spunti che ci ha offerto sono anche contento e parlo dell'organizzazione del fatto che ci sia una registrazione perché così poi mi riguardo tutto varie volte e sto più attento perché ho preso veramente qualche appunto professoressa lei ha toccato dei punti molto rilevanti e interessanti per prima cosa anch'io sono d'accordo con questa sua idea che proprio l'inserimento del caso siciliano ci aiuta un pochino a de-etnicizzare la questione perché il conflitto etnico diventa sempre un punto di scarico e una buona scusa per motivare qualunque sorta di progetto di violenza invece proprio la Sicilia sta qui a spiegarci che forse non sia così decisiva e forse si debba guardare altrove c'è anche un caso una specie di grande assente del presente panel la questione delle colonie ma ci avrebbe portato molto distante perché le dinamiche sono piuttosto diverse raccolgo giusto qualche suggestione poi lascio la parola a chi altri vorrà parlare sì c'è la questione della continuità con il fascismo che è molto importante c'è la questione così per cercare di toccare anche i vari punti nei vari panel c'è già una questione di convergenza tra attori in guerra con una logica diversa rispetto al resto d'Italia il professor Soave ci spiega che c'è stato un avvicinamento tra resistenti e repubblichini in funzione antifrancese a ridosso del confine italo-jugoslavo se non si è proprio arrivati a questo ci si è andati vicino o se n'è almeno parlato abbondantemente poi c'è la questione lei dice sicuramente della sopravvivenza di pratiche fasciste questo è indubbio ma aggiungerei anche la risumazione di strutture politiche che erano fondamentalmente fasciste c'è nel caso del collega Blando di Nino l'ispettorato generale di polizia in Sicilia che viene risuscitato l'ufficio zone di confine che non era proprio una cosa fascista ma che viene rimesso nella sua funzione e aggiungo c'è anche in qualche modo una continuità di personale amministrativo c'è la questione che dopo il memorandum di Londra il prefetto di Trieste è Palamara che viene da quelle altre esperienze di lotta la mafia se me lo spiegava Benignia tra l'altro il professor Benignia mi incitava a lavorare su questo per cui è bello vedere come ci sia una grande comunicazione tra questi territori di confine per tutta una serie di questioni e si potrebbe anche volendo lavorare come prospettiva di ricerca sul lascito di queste culture di questa in qualche modo sopravvivenza del fascismo nelle culture politiche locali la Milo e la Cataruzza lo fanno e dicono che questa convergenza tra antifascisti e fascisti pur filo italiani in funzione anti-Yugoslava abbia lasciato dei frutti avvelenati in eredità alla cultura politica locale poi un'altra un altro aspetto che credo possa essere fertile proprio da un punto di vista di ricerca di storia politica se vogliamo concerne i contatti tra i vari soggetti interessati a revisioni territoriali a danno dell'Italia tra di loro perché c'è la questione c'è l'evidenza che andrebbe approfondita ma c'è qualche indicazione in tal senso che ci fossero degli emissari jugoslavi in Sicilia alla fine della guerra che ci fosse almeno un interesse nei confronti di quella situazione poi sappiamo e il professor Blando ce l'ha spiegato bene come Togliatti sistema la questione del comunismo siciliano in realtà ma questo avviene ad un certo punto e poi c'è la questione della della connivenza franco-jugoslava nel processo di definizione della pace con l'Italia che è consistente almeno fino al trattato di pace c'è tutta la questione dei sostegni incrociati poi anche la Jugoslavia aiuta la Francia nel confine con la Germania in cambio di qualcosa per la Venezia Giulia poi c'è tutta una pre-storia di rapporti soprattutto tra la Serbia e la Francia che lascia una sua eredità per cui anche questo sarebbe interessante e gradevole per il resto la multitenicità la Sicilia si sto scorgendo brevemente i miei appunti forse qualche altro aspetto beh sicuramente si si diceva i territori di confine e i messaggi al centro non è un caso forse che anche a Trieste poi ci siano alcuni episodi collegabili alla strategia della tensione ma qui faccio un grande salto in avanti nel tempo penso alle bombe inesplose nelle scuole slovene e cose di questo genere questo sempre riuscendo a non lasciarsi affascinare dalla fantascienza o da tesi peregrine comunque potrebbe essere una pista abbastanza interessante un'ultima cosa forse sì ecco leggendo il paper del professor Soave ho trovato molto interessante proprio la questione che Truman il 7 giugno del 45 minaccia i francesi di togliere le forniture militari e a me è proprio suonato il fatto che in quei giorni ci fossero gli accordi di Duino per cui è bello sarebbe bello vedere come si articolano queste pressioni internazionali dando vari esiti diversi in contesti diversi accolgo con grande entusiasmo il suggerimento della professoressa Ruta rispetto alla questione coloniale diciamo ovvero il lascito della tradizione coloniale inglese nell'amministrazione dei territori di riferimento alla Sicilia ecco sicuramente anche questi modi di concettualizzare certe questioni rispetto al contesto italiano europeo hanno un'importanza che non va trascurata sicuramente penso a reminiscenza di lettura di Valdevit la strategia scelta dagli angloamericani per la Venezia Giulia è quella di ricostruire una democrazia da zero perché di fatto quei territori non avevano una loro tradizione democratica e penso poi anche ad alcuni scambi tra angloamericani e a livello di personale diplomatico e i jugoslavi in cui gli jugoslavi si lamentano di continuare a venire trattati come se non fossero etnicamente affidabili in qualche modo lamentavano la continua persistenza di una serie di pregiudizi sui Balcani che informava di sé anche le manovre di politica internazionale brevemente a Vanni dunque è una questione molto scivolosa perché bisogna capire che cos'è un gruppo organizzato di violenza e che cos'è un gruppo deputato alla gestione dell'ordine pubblico sicuramente però le squadre di picchiatori neofascisti che c'erano in alcune zone di Trieste si avvicinano a un fenomeno abbastanza se non terrorista quasi non so come dire e poi tutte le strutture che sicuramente partecipano ai disordini a Trieste nel 52 il 53 non sorgono durante la notte precedente bisognerebbe fare sarebbe molto interessante lavorare su questo tenuto presente che però è ancora un nervo per certi versi scoperto di certi segmenti dell'opinione pubblica per cui è un po' difficile muoversi senza fare pasticci se chiaramente la professoressa Ruttar desidera replicare o chiunque ha qualunque cosa da dire lascia la parola può parlare tutto con la mano alzata da un po' in realtà ok sì grazie beh intanto complimenti ai relatori ho mandato anche un messaggio al dottor Ticcavottini dunque due o tre cose per quanto riguarda il terrorismo stavo pensando alla prima strage impunita del dopoguerra italiano che è quella di Percarola che è ancora un punto interrogativo da molti punti di vista e qui ci sarebbe da ragionare un po' sul terrorismo secondo parlando di logiche della violenza nel porto orientale e ce ne sono ancora parecchie purtroppo il piatto è molto ricco mi spiace arricchirlo ulteriormente ma può aiutare la comparazione ad esempio ci sono tutte le logiche di violenza in Istria fiume c'è dei territori sotto controllo di Uslavo che hanno diverse stagioni e diverse protagonisti e diverse motivazioni non necessariamente nazionali ma alcune legate alla battaglia per la nazione altre legate al comunismo di guerra potremmo dire socializzazione veloce altra la crisi del comiform e parlando proprio di crisi del comiform e di scontri violenti tra comiformisti e anticonformisti penso a quello che succede nella zona del territorio libero dove i medesimi fenomeni di squadrismo li abbiamo conti lì solo di matrice diversa come un urto reciproco piuttosto forte piuttosto sanguinoso ecco quindi che le logiche sono molto intrecciate forse due parole meriterebbe spendere la questione ecco la questione di Vergarola può essere proprio un modo per indicare quello che dicevo prima Vanni cioè che purtroppo in certe dinamiche è difficile avventurarsi anche con strumenti di ricerca perché purtroppo sono cose di cui subito l'opinione pubblica anche locale si impossessa variamente all'assalto del nulla penso anche ad esempio il libro di dato che poi in realtà scrive che non ci sono gli elementi per dire che quella questione è stata causata dagli jugoslavi gli dice che non ci sono gli elementi per attribuire quella questione ad alcuna agenzia perché non ci sono però alcuni giornali hanno scritto dicendo che nei suoi libri ci fosse scritto invece che fossero gli jugoslavi nel caso specifico io non so che cosa possono riservarci gli archivi perché ho avuto in mano anche le carte dell'Osna dove dovrebbe esserci qualcosa e qualcosa non c'è per cui mi viene proprio il dubbio che sia difficile trovare qualcosa a parte forse qualche studio magari di carattere più speculativo o perizie tecniche o la memoria degli eventi rispetto alla questione delle violenze sicuramente ciò che lei propone è interessante qui per questioni oristiche noi abbiamo optato per un restringimento all'interno dei confini italiani proprio per evitare di allargarci troppo ma potrebbe sicuramente essere interessante forse professoressa Rutter o qualcun altro dei partecipanti se qualcosa raggiunge anche in riferimento alle suggestioni così interessanti della professoressa Rutter al nostro discussant professor Soave l'audio sì no piccole cose rispetto alla grandezza dei problemi anche perché il caso Val Giustano fu un po' diverso dagli altri e mi scuso con la professoressa per la velocità con cui dati i tempi abbiamo dovuto esprimerci quindi come dire forzando molto la sua capacità di comprensione che per la verità poi viste le considerazioni che ha fatto è ottima allora due cose gli alleati la differenza tra americani e inglesi in Val Giustano non ci fu per un motivo che vorrei dire come dire da storico un po' grezzo ma perché unificava entrambi una insopportabile l'insopportabile comportamento di De Gaulle come sappiamo Churchill si lamentava che questo era appena arrivato dal Marocco bisognava persino comprargli le mutande e già pontificava su quello che bisognava fare in Europa e quindi ciò permise agli inglesi Winston Churchill non c'era più nel 45 quando i fatti accadero ma la sua eredità permaneva e agli americani di procedere diciamo piuttosto per le spicce gli inglesi poi avevano lì in Val d'Aosta un amico un po' corrisponde con l'immagine siciliana ma insomma di con una natura ed era il professore Alessandro Passerendentrer che era stato studioso e professore a Oxford che gli inglesi conoscevano bene che avevano molti rapporti con loro per cui da quel punto di vista lì americani e inglesi procedettero molto decisamente insieme per quanto riguarda gli aspetti successivi e cioè terrorismo eccetera 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 non ce ne fu in Val d'Aosta che mi risulti naturalmente comunque in maniera così forte come era nelle altre regioni soprattutto in Alto Adige anche perché tutti i fermenti estremi vennero riassorbiti da un particolare atteggiamento di ostilità nei confronti comunque sempre del governo italiano da parte dell'Unione Nombardo Teng che era il partito di maggioranza in Valle d'Aosta sul tema la garanzia internazionale hanno dato la garanzia internazionale all'Alto Adige perché non la danno a Tirolo perché non la danno anche a noi noi non ci sentiamo sicuri e su questa base continua una frizione tante volte direi un po' immotivata da parte dei valdostani che però avevano una lunga tradizione a differenza di altri di cultura autonomistica alimentata fin dal 1800 dalla Chiesa Cattolica molto presente e nelle scuole nelle scuole di villaggio allora motivata dalla doppia causale della ostilità con lo Stato italiano promosso da Pio Nono e da altri fattori interni quindi quello è per il resto effettivamente la situazione non è paragonabile poi negli anni successivi con quella valdostana e con quella e con quella della frontiera orientale ben più complessa e ben più complicata se posso ricordare una cosa però è questa io ho fatto il militare in Val d'Aosta nel 1970 e mi colpì arrivando arrivando all'allargamento delle valle di vedere su non poche montagne è scritto Val d'Ota Libra cioè c'erano delle rivendicazioni di questo tipo che non arrivarono mai all'estremo ma che testimoniavano il permanere di una qualche insoddisfazione del brione interna e infine invece ebbi un incontro quando ero parlamentare della commissione affari costituzionali con Silvio Smagnago e era una delegazione parlamentare lo dico soltanto perché da certi dettagli si capiscono le cose era una commissione parlamentare degli affari costituzionali che andava a valutare e incontrare le regioni autonome a statuto speciale allora arrivamo era una commissione della Camera dei Deputati il presidente di quel viaggio di commissione era un vicepresidente della Camera cioè allora diventò presidente Luciano Violante avevamo un appuntamento a una certa ora ci fece aspettare un'ora senza neanche dire il motivo in quell'ora io vedi che c'erano dei dépliants della provincia autonoma di Bolzano e sfogliandoli c'erano vari locali e c'erano non so non entrano i cani non entrano questi e numerosi di quelli non entrano gli italiani quando cercai di farlo notare a Silvius Magnago che era un grande presidente e durò molto mi guardò semplicemente come dire non merita non meriti una risposta cioè quella era la considerazione che avevano di membri del Parlamento italiano di una cosa italiana che come dire non dice nulla di più al panel di quest'oggi ma dice come le cose nel sottofondo fossero effettivamente sempre sul filo di una tensione da governare professore grazie mille io prendo furiosamente la parola avendo ancora circa 60 secondi a disposizione mi informano dalla regia solo per ringraziare moltissimo tutti i partecipanti chiedendo ancora scusa al nome del professor Baiz ringrazio molto la professoressa Ruter io davvero appena sarò disponibile alla registrazione cerco di trascrivermi meglio tutti i suoi suggerimenti rispetto a noi io credo che se sarete disponibili penso anche la professoressa Ruter sarebbe produttivo e piacevole rimanere in dialogo per qualora fosse possibile evolvere quanto detto oggi sia nella direzione di un progetto di ricerca con le varie possibilità che si offrono o una pubblicazione qualcosa forse si potrebbe già fare semplicemente evolvendo le presentazioni ma sentiamoci o qualcosa ancora di più consistente e convincente se ci fosse la possibilità di promuovere degli studi nuovi vi ringrazio ancora Vanni spero in qualche modo di avere risposta alla tua domanda nella fretta prima non c'erano gruppi organizzati secondo me in qualche maniera nessuno non è ancora parlato attendiamo che qualcuno ne trovi qualcuno oppure la conferma che non c'era va bene grazie grazie anche alla Cisco chiaramente e a chi ha curato gli aspetti tecnici grazie grazie a tutti grazie grazie bene grazie a tutti